allora ciao francesco ciao alessandro come i granato diciamo così se volete iniziare a raccontarmi un po come siete nati quindi chi sono i granato così col contestualizziamo sì dunque i granato nascono nel 2017 composti da me francesco bianco e da alessandro cicala e fondiamo questo duo partendo da esperienze anche pregresse noi ci conosciamo da un bel po abbiamo fatto avuto varie formazioni diciamo nel corso della nostra nel nostro rapporto quindi fondiamo questo gruppo nel 2017 facciamo il primo nostro disco corrente e per poi la realizzazione del live si aggiunge vario giuffrida che da un grosso apporto al nostro al nostro sound e alle nostre idee e quindi con lui realizziamo il tour di corrente quindi il corrente tour giriamo un po per tutta italia soprattutto sud roma partecipiamo a diversi festival diamo la menzione d'onore al festival buscaglione semifinalisti al social music contest di crotone e poi nella in questa la scorsa estate vengono pubblicati due singoli due nuovi singoli ultra e europe quest'ultimo realizzato proprio durante l'ultimo durante la quarantena e insomma un pezzo che parla di vari argomenti legati a quel momento ecco ok allora se mi dite qualcosa magari di questi singoli così poi introduciamo il progetto vero e proprio sì anche perché interessante il fatto che siano nati insomma un periodo immagino complicato anche per chi suona insomma scrive sì europe appunto dal titolo già si capisce parla dell'europa e soprattutto del del rapporto diciamo fra l'europa e le istituzioni europee e e le persone che poi formano l'europa quindi quanto le istituzioni europee sono vicine alla alle persone e quanto gli ideali che costituiscono l'europa appunto aiutano la aiutano il rapporto aiutano diciamo dal punto di vista sociale anche il le questioni e che poi nel durante la quarantena sono emerse in maniera evidente e quindi insomma la europea parla di tutto questo non so alessandro se vuole aggiungere qualcosa beh sì diciamo che il periodo ci ha fatto scaturire un po di insomma dei pensieri di riflessioni sulla sull'aspetto del ruolo dell'italia in quanto nazione rispetto al rapporto con l'europa con i paesi europei ma detto così sembra esclusivamente politico ma è molto più legato alla alla nazione in quanto persone noi italiani verso verso l'europa come la pensiamo se ci fossimo sentiti abbandonati da esse quel momento lancia dei spunti di riflessione senza tanto guardare a dare un giudizio vero e proprio e in realtà quello il nostro il nostro unico punto di vista era come fatti su un video certo se andate a vedere video diciamo le persone dell'europa personificata in questa ragazza che sembra un po' distante da 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 noi insomma da dall'eventuale alter insomma comparto maschile non posso dire insomma un po' distante la tratta con distacco insomma così sembrava un po' quel tipo di rapporto quando tu senti senti che stai vicino a una bella donna e sai che poi effettivamente non c'è niente da fare tenuto a distanza ecco questo c'è ci ha dato un po' questa impressione però non è un testo che che denuncia chissà quale si pone tanti interrogativi e poi però poi invece dal punto di vista musicale io trovo sia molto coinvolgente perché ha un ritmo molto trascinante una melodia relativamente cantabile quindi è un pezzo anche appunto orecchiabile e ballabile oserei dire insomma ha un ritmo forte è un buon esperimento perché è stato ovviamente tutto concepito nella quarantena cioè quindi loro diciamo che noi comunque lavoriamo spesso anche da casa cioè nel senso con condividendo le sessioni su internet insomma tecnicamente condividendo online quello che facciamo e questo pezzo è stato il primo veramente totalmente concepito per necessità direttamente ognuno a casa propria il risultato è stato comunque migliore di quello che di quello che pensavamo insomma perché ovviamente non l'interplay che si crea di persona non è facile da replicare a casa insomma questo è però devo dire che ci siamo riusciti abbastanza bene per quello che insomma per quello che pensiamo noi beh comunque sicuramente un argomento attuale al di là di quello che poi del messaggio più o meno politico no in realtà poi è stato molto influenzato dal contesto sia nella sua composizione che che nel tema diciamo così quindi mi riaggancio a questo per chiedervi appunto dell'album perché c'è un progetto in ballo e quando è prevista insomma l'uscita so che ci sono stati vari slittamenti ma è stato inevitabile per tutti vista la situazione quindi ma il primo singolo è la camera di viola? sì la camera di viola sì potete dirmi qualcosa visto che anticiperà comunque il progetto sì vado avanti io poi passo la parola ad Alessandro la camera di viola è un brano che parla appunto da come si può capire dal titolo della camera di viola quindi gioca sul doppio senso della parola camera che assume il significato di camera cioè la cameretta la camera da letto di viola e anche camera come telecamera o webcam con la quale questa ragazza viola e cerca di ritrovare se stessa facendo delle webcam erotiche insomma e quindi una ragazza che durante l'adolescenza da solare e allegra si trasforma diventando introversa e schiva e arrivando poi appunto per affermare se stessa a fare delle webcam erotiche e quindi insomma questo sarà il prossimo singolo e prego Alessandro se vuole aggiungere qualcosa beh a parte insomma come hai detto tu il significato del testo di quello dell'argomento di cui si tratta insomma al tema della canzone posso parlare dell'aspetto musicale che insomma il brano nasce fondamentalmente da un loop da dei loop che abbiamo creato io e Dario Giuffrita in studio e poi da questi loop si è evoluto in quello che è il singolo poi ascolterete che sono rimasti sotto insomma la base primondiale di quel loop è rimasta e si basa tutto da quest'idea ciclica che ritorna su tutto il brano insomma è una cosa abbastanza interessante perché c'è un'evoluzione di questo fraseggio che è costante e poi è anche l'idea che c'è in base su Ultra che è un altro pezzo che è uscito in quest'estate e stavamo lavorando in questa direzione la camera di viola è proprio forse quello che racchiude meglio questa idea della ciclicità degli aspetti musicali che nei nostri pezzi ricorre spesso sempre di più nel prossimo disco è stato un loop unico sì sì, giocare con questi loop e evolverli ovviamente sotto un aspetto sonoro costantemente quindi non è un'idea che rimane sempre uguale ma viene costantemente diciamo evoluta sviluppata, modulata a me ho ascoltato un po' dei brani a livello sonoro trovo molto interessante questa cosa dei loop ma proprio in generale i tappeti sonori dei vostri brani molto particolari comunque sicuramente restano perché non è qualcosa insomma che si sente facilmente in giro però volevo parlare prima dei temi perché comunque mi sembra trattate molto di temi molto attuali reali anche e quindi volevo capire un po' come nascono le ispirazioni delle canzoni perché voi giustamente parlate di realismo perché c'è questa necessità di parlare di queste cose e come nascono appunto i testi? un po' perché noi siamo cresciuti in un'epoca ancora nel senso durante gli anni 90 diciamo che noi essendo sulla via dei 40 siamo cresciuti negli anni 90 dove ancora c'era un rapporto con il testo che era meno individuale cioè meno individualista anzi individualista quindi si trattava ancora magari con le canzoni di comunità anche di politica soprattutto nelle canzoni insomma che venivano da un tanto dall'Italia ma anche insomma un sacco di musica italiana è inseribile in questo e noi notiamo insomma per quello che vediamo ma anche perché sono discorsi che con Francesco ci siamo fatti proprio a prescindere prima di cominciare a fare questo album oppure a iniziare proprio i granate che era quello di provare nel nostro piccolo a ricondurre diciamo a strappare un po' all'individualismo lo scettro di quello che è il testo della musica di oggi tutti parlano di loro sessi tutti parlano delle proprie esperienze tutti che non è che sia sbagliato per carità però non è cioè secondo noi bisognerebbe riappropriarsi del un po' del del concetto di comunità in generale di persone quindi anche del parlare del di altro di altre persone anche mettendoci nei panni di e e questo era insomma è quello che che poi distingue i pezzi che ci sono adesso ovviamente lo sguardo personale non può essere ben passato perché qualsiasi cosa uno scriva devi passare per forza dalla propria diciamo lavatrice interiore però cerchiamo insomma il nostro obiettivo era appunto quello di non di non fermarsi alle esperienze personali ma mettersi un po' in terza persona ecco parlare un po' in terza persona del resto di quello che ci sembra sbagliato o giusto all'interno della società in cui via che è un po' quello che succedeva ancora nella 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 in un certo di certi altri però Francesco invece sì 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 tutto giusto insomma partiamo da quell'esperienza lì e ora insomma sicuramente ci sono dei prodotti che hanno questa impostazione ecco ma pensiamo rispetto a prima vengano molto meno valorizzati ecco prima diciamo i prodotti che i prodotti musicali che si occupavano impostati in quel modo venivano valorizzati appieno dall'industria musicale ora invece molto meno ecco anche se sicuramente esistono quindi sì la nostra ispirazione arriva noi insomma cerchiamo di dare un nostro una nostra interpretazione della realtà che ci circonda partendo da determinati presupposti alcuni sono sicuramente quelli che ha detto Alessandro e che sono sicuramente i più importanti cioè considerare il considerarci una parte di un tutto insomma va bene allora grazie Francesco grazie Alessandro è stata una bella catturata grazie a voi speriamo di sentirci presto con altre novità grazie a presto ciao 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 Grazie a tutti.